Che il gusto di un vino sia più esaltato da alcuni bicchieri piuttosto che altri è un fatto noto ai consumatori e agli intenditori, ma per la prima volta una ricerca dell'Università di Pisa ha stilato una vera e propria classifica dei migliori calici da rosso. La ricerca, durata sei mesi, si è basata su valutazioni sensoriali, analisi chimico-fisiche e caratterizzazione morfologica dei bicchieri. Miglior bicchiere per un vino rosso strutturato, quello tronco e conico, maglia nera al classico gran ballon e al calice da degustazione standard. In generale comunque la scelta di un calice è legata sostanzialmente alla consuetudine e all'impatto visivo del bicchiere.